Salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video Io sono Manu e amici miei oggi siamo qui ritornati sul secondo episodio di Mario Kart 8 Deluxe Allora amici miei se vi siete persi la prima parte, il primo trofeo mi raccomando lo trovate caricato sul canale quindi riprendetelo Comunque ragazzi mi raccomando prima di iniziare lasciate un bel like sotto questo video se vi piace Mario Kart E se non siete ancora iscritti iscrivetevi al canale per restare sempre aggiornati su tutti i miei video che porto sul mio canale Allora amici miei iniziamo subito con il nuovo e secondo torneo di quest'oggi Allora quindi iniziamo sempre come al solito 150 questa volta cambieremo non metterò Mario Voi dite perché già lo stai mettendo perché volevo vedere un attimo l'argomento principale del trofeo fiore Mettendo il trofeo fiore abbiamo circuito di Mario, Riviera di Tod, Cittadella, Tremarello oppure cascate di tipo timido Allora siccome c'è la casa stregata facciamo una cosa mettiamo Luigi Molto bene per iniziare al meglio questo secondo episodio però cosa possiamo mettere? Allora mettiamo questa kart non mi fa molto impazzire però penso che la equipaggerò Anzi si la mettiamo Mettiamo Anzi no facciamo una cosa mettiamo già subito quest'auto molto molto bella E come ruote mettiamo vediamo un po' da corsa questa è qua viola tema fantasma Possiamo mettere il deltaplano classico di Luigi ma come vi ho già detto lo scorso episodio metterò sempre la lianda Trofeo fiore andiamo inizia il gran premio Cirquito ottimale trofeo fiore la prima corsa di quest'oggi Allora Due Uno Andiamo Allora questa Quest'auto da corsa con sto scritto non so se avete notato una one up E' molto figa Infatti Io la preferisco un casino perché a parere mio è molto molto veloce Allora attenzione Alle piante piragne perché si vi colpiscono Non sono state le piante piragne ma sono stati I player Allora possiamo salire qui E possiamo fare anche questo E' arrivata una bomba Partiamo bene ragazzi partiamo molto bene Allora Siamo secondi al primo posto forse se non sbaglio ho visto Desi Vediamo un po' Allora cerchiamo di superarla Eccola qua Andiamo Turbo e andiamo Aiuto Guardate Boom E' molto figa questa cosa Allora facciamo attenzione In caso ci dovessero lanciare qualcosa Andiamo Andiamo Molto veloci Cerchiamo di prendere terreno Eccola lì la pianta piragna Facciamo attenzione Questa volta voglio andare qui Ok E andiamo Non mi jumpa Va bene Allora Allora Attenzione Perché non vedo niente Ok Oh no sta arrivando la fafalla E vabbè già Ovviamente per iniziare Uno e ovviamente Due Eh nice Perfetto Ok E già Desi è arrivata nuovamente dietro di noi Allora Adesso mi sto cominciando ad arrabbiare Sono già quarto raga Mi hanno superato tutti Aspetta Allora Dato Ok E andiamo così Adesso Facciamo una bella bomba qua dietro E Desi Scendo un po' di posizione Ok Turbo giallo Andiamo così Andiamo Ed Andiamo Eh non jumpa Niente Va bene Ok Sì E ho visto una banana Avanti Mi hanno superato Faccio una roba del genere Allora Terzo giro Ultima curva Mi sto cominciando a preoccupare Jumpa Ovviamente No Ti prego Nice Nice Mamma mia raga Ammettetelo che vi siete spaventati anche voi Quando stava arrivando quel guscio Rosso Ok Meno male Il nostro Luigi È arrivato alla prima Posizione Mamma mia ragazzuoli Mamma mia Ok Allora adesso siamo qui con la seconda corsa Trofeo fiore Riviera di Toad Toad O Toad Come lo volete chiamare Ok Eccoci qua Di solito dovete partire quando sta per finire il 2 Infatti io poi ho lasciato un'altra ottava Perché sono stupido Comunque Iniziamo andando dal percorso classico Ok Allora andiamo di qua Facciamo una bella derapata Mamma mia Molto carina Ok Allora E quello almeno te lo prendi Doppio dado Facciamo una bella curva Attenzione a quello che c'è una banana Che cosa ho appena detto Allora Pianta piragna Aiutami 1 2 3 4 Funzione Ai tram Perché Non dovete sbattergli contro Perché Fanno male Ok Allora Possiamo anche andare di qui 1 E 2 Molto bene Adesso possiamo girare sia a sinistra Ma anche di qui Attenzione Larry Si chiama Larry o Lemmy Non me lo ricordo Comunque Andiamo da questa parte E adesso 1 E 2 Nice Adesso saliamo qui su Attenzione Aiuto Non vedo niente Molto bene Allora Andiamo sopra Andremo dopo sopra Mamma mia Mi sta dando un fastidio E' un figlio di Bowser Sono solo questo Ok Prendetevi una bella bomba Ragazzi Saliamo di qua Ok Boom Boom E non me lo fa Ok Facciamo questo E possiamo anche prendere questo qua Molto bene Qui c'è un'altra scorciatoia Da questa parte A meno che mi facciano del male Ok Prendiamo il boost Dato Ecco là 3 banane Molto utile per sorpassare Vero? Vero? Allora Andiamo di qua 2 2 E 3 Non preferisco Ecco Non salire su Allora Vediamo di muoverci Anche perchè voglio prendere questa strada E fare questo Dopo aver eliminato tutti voi Io salgo qui su Ok Ok Andiamo questa scorciatoia Ok Non è per me Ok Adesso Facciamo questo Facciamo questo E facciamo questo Doppio dato La parfalla questa volta Non è per me Molto bene No Mario No Mario No Vuole una bella terapata La bomba Signori miei La bomba Che cosa è successo? Ragazzi Se prendevo la bomba Era finita Non arrivavo prima Meno male Meno male Oh fidatevi Non pensate che sia semplice Non pensate sia semplice Comunque Per fortuna È andato tutto liscio Anche se Mario aveva quel cuscio Io gliel'ho tirato E lui si è È riuscito a salvarsi E lì ho detto Mamma mia Vuoi vedere che non ci arrivo? Ma eccoci qua Trofeo Fiore Terza mappa Cittadella Tremarella Ok Allora Terza corsa Ottima partenza No Va bene Allora andiamo a destra Ok Allora Lo lancio subito Lui mi ha preso la scia Ok Andiamo Nice Allora non è male Quest'auto Ma in queste mappe Fa un po' schifo Va bene Comunque Andiamo qui A destra Ok E prendiamo Questi dadi Saliamo su Ok Ok Raga io ho Questi oggetti Mi conservo Andiamo così Esatto Proprio per questo Adesso andiamo a sinistra Guardate i buchi Ok Dopo aver fatto questo Lì c'è un passaggio Che potete utilizzare Grazie al fungo Ok Così io mi prendo un altro dato Cioè che ci sono Un'altra protezione Ok Eccola qua Adesso Facciamo una bella curva E andiamo da questa parte Tutti Tutti Di continuo Non si fermano mai Allora facciamo questo E adesso Andiamo giù Ok Non male Facciamo questo E andiamo di qua Non male che non sono passato sotto Perché altrimenti Mi avrebbe schiacciato Allora Andiamo così Abbiamo un'altra protezione In caso Il calamato Ecco Ho lasciato anche la banana Per sbaglio Allora prendiamo un dato Qualsiasi Sperando che non sia una moneta Come l'ho detto Allora Adesso Andiamo Nuovamente di qua Moneta E procediamo In questo modo Proviamo E ok Andiamo su Molto bene Molto bene Is 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 Nice Molto bene Finalmente Finalmente raga Ok Anche in questa mappa A tema Casa stregata E' andata Molto molto bene Procediamo Con La quarta E ultima Mappa Trofeo fiore Cascate Di tipo Timido Infatti è molto ria Ci sono i tipi timidi Che lavorano Nelle miniere Guardate che fighi Allora Andiamo Due Uno Via Una partenza migliore Rispetto a quella di prima Allora procediamo Da questa parte Attenzione a Mario E andiamo E andiamo Facciamo qualche banana dietro Se le prendono Tutti loro Allora raga Qui dobbiamo andare Controcorrente Quindi E' Consigliato Prendere il boost Ok bella Sta curva Adesso Si scende A tutta Velocità E andiamo Ok Molto bene Ovviamente Ovviamente le strade Che fanno scorciare Che si possono prendere Solo con i funghi Raga Non le posso prendere Se non ho il fungo Quindi Perdonatemi Allora Secondo giro Cerchiamo di prendere monete Altrimenti i dati Ci danno le monete Aia Lei è la mia banana Questa Ok Forza forza Recuperiamo E no Volevi Facciamo così 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 E prendiamo Il doppio Guarda Mario Guardalo La scendiamo Scendiamo raga Io ma No no Non so cosa dire Eccala E' andata tutta male No Volevo andare Volevo andare sopra Però non avevo Molta velocità Allora Dai Il secondo giro Attenzione Oh aspettate Ho il fungo Adesso posso fare una cosa Stavo scherzando Perché si trova Verso fine mappa Quindi vediamo Come lo tengo per dopo E rischierò La mia partita La mia partita Vediamo raga Vediamo Ok Facciamo così Vabbè Va bene Va bene Va bene Va bene Allora Uno Due Tre Facciamo questo Eh no Vabbè Però così Non è possibile Andiamo così Andiamo così raga Allora Signori miei Terzo posizione Saliamo su E andiamo da questa parte Dopo Siamo andati qua Andiamo questo Doppio dato Obbligatorio Ci ho provato Ci ho provato Ci ho provato Ci ho provato Va bene Seconda posizione Vaffaculo Ragazzi Ve l'ho Ve l'ho detto Forse nello scorso video E ve lo dirò Anche adesso Se Dovessi arrivare Al secondo posto Cosa che non mi Succede Quasi mai O è tipo Succede sempre Cosa che non mi Succede quasi mai Arrivo sempre Per colpa Della sfortuna Cioè avete visto Tutto che cosa è successo All'ultimo giro Vabbè Allora andiamo ai risultati Dai Trofeo Fiore Boom Tutto primo posto Tranne quel Secondo posto Alla fine Nooo Però raga Spero che anche voi Capiate che La sono giocata bene Ed eccolo qua Purtroppo Purtroppo non abbiamo Le tre stelle Per colpa Che siamo Per tre punti Va bene Ragazzuoli Almeno L'importante Sembra arrivare Prima Attenzione Comunque Spero che il video Vi sia piaciuto Se è stato così Mi raccomando Lasciate un bel pollicione In su E se non siete ancora iscritti Iscrivetevi al canale Io E con questa bellissima schermata Di link E tutto Noi ci becchiamo Alla prossima Mi raccomando raga Su con un bel pollicione Alla in su Se non siete ancora iscritti Iscrivetevi al canale Attivate la campanella Notifiche Per restare sempre aggiornati Su tutti i miei video Che carico sul canale Noi ci becchiamo Alla prossima Bella Ciao